buonasera a tutte buonasera a tutti iniziamo questa piccola avventura di aperitivi antropologici dopo insomma le pillole le biografie finalmente facciamo qualcosa di un pochino più rilassante e soprattutto di polifonico perché non sarò più l'unica voce narrante in questi video sono super felice di iniziare con alice pari che è qui con noi e che insomma è un incontro particolare particolare perché alice è un'antropologa ci siamo conosciuti proprio perché abbiamo la passione e la professione dell'antropologia la condividiamo però in realtà iniziamo questa puntata di aperitivi antropologici subito diretti per far capire a tutti quindi a quelli che non ci poi non vogliono vedere cose di parte meglio che non si riguardano questi aperitivi antropologici perché ho deciso di iniziare proprio parlando con alice che ci racconta una storia bella e brutta bella perché alice oltre ad essere un'antropologa di lavoro ormai da un po' di anni si occupa di aiutare i nostri le nostre amiche e i nostri amici tartarughe e di gestire insieme ad altre persone la fondazione cetaci che ha sede a riccione ma che poi si estende in tutta l'emilia romagna se non ho capito male io ho avuto la fortuna poi di visitarla un posto meraviglioso un posto dove gli animali hanno una relazione con gli animali umani il più orizzontale possibile e purtroppo sentendoci in questi giorni con alice ho scoperto che questo meraviglioso posto potremmo dire poi adesso alice lo spiegherà molto meglio che è sotto sgombero cioè sotto sfratto purtroppo c'è un'amministrazione comunale estremamente mio perché invece di premiare questa fondazione che fa un lavoro meraviglioso sembra che gli ha staccato il riscaldamento e quindi li costringe a lavorare al freddo e in più probabilmente li vuole anche mandare via ma io mi fermo e faccio raccontare tutto o quantomeno qualcosa ad alice su il passato anche per far capire a chi non vi conosce quante cose insomma avete fatto chi è il team che si occupa di questo centro perché è una fondazione e un centro e poi insomma anche sull'attualità quello che sta succedendo in questi giorni, in queste settimane grazie allora, prima di tutto faccio un piccolo escursus per chi non ci conosce su di cosa ci occupiamo e da quanto tempo lo facciamo Fondazione Cetacea Ollus è appunto un'associazione che esiste da più di 30 anni, in realtà ha avuto un passato abbastanza mi verrebbe da dire ambiguo nel senso che nasce purtroppo in un posto che faceva cattività e poi per fortuna le persone al suo interno cambiano cambia l'anima dell'associazione e 13 anni fa diventa finalmente indipendente, prende delle posizioni assolutamente contrarie allo sfruttamento animale e inizia a camminare con le sue gambe e 13 anni fa appunto chiede un posto dove poter spostare il suo centro al comune di Riccione e gli viene data in gestione una vecchia colonia praticamente diroccata che però insomma col sudore della fronte di chi c'era allora, io allora non c'ero ma c'era mio padre e tante altre persone che poi sono rimaste e viene ristrutturata e viene resa agibile per appunto curare le tartarughe ma anche per accogliere bambini, scuole, insomma anche turisti c'è chiunque fosse interessato a conoscere il nostro lavoro, quindi diventa oltre che un polo di cura che comunque lavora nel rispetto degli animali nel senso che noi recuperiamo animali in Emilia Romagna e Marche principalmente tartarughe marine che vengono ritrovate ferite o debilitate e una volta curate le rimettiamo chiaramente in mare e oltre a quello è anche un polo educativo molto importante, ospitiamo tantissime classi come vi dicevo insomma è diventato anche un posto dove fare informazione e sensibilizzazione sulle tematiche legate al mare Adriatico che insomma ha una pessima nomea ma in realtà Riviera Romagnola non sono solo discoteche e cementificazione ma il mare Adriatico ha ancora una biodiversità molto ricca e ha anche un ecosistema molto fragile quindi ha bisogno di essere protetto. Ricordo male Alice o c'è anche una specie di... scusami, ricordo male o c'è anche una specie di museo sotto che racconta un po' la storia e soprattutto si inserisce proprio in questo discorso che stavi facendo la complessità dell'ecosistema. Esatto, abbiamo anche un museo con dei reperti anche interessanti perché abbiamo... comunque anche se non si sa nel mare Adriatico ci sono tantissimi cetacei, delfini, balenottere che ogni tanto passano e si fanno un giretto e poi tornano giù, tartarughe non solo caretta caretta che quelle che curiamo principalmente noi e ce ne sono tantissime perché parliamo di una popolazione solo in alto Adriatico di 50.000 esemplari e in realtà l'altradiatico in Mediterraneo è una delle zone con la più alta concentrazione quindi a maggior ragione è importante prendersene cura. Oltre alle caretta caretta ci è capitato in questi anni di intervenire anche su tartarughe verdi, tartarughe liuto che sono animali che raggiungono anche 500-700 kg di peso. Insomma in realtà l'Adriatico ha un sacco di scoperte ed è importante insomma conoscerle, farlo conoscerlo farlo conoscere perché chiaramente sapere tutte queste cose porta avere anche un rapporto di maggior rispetto con lui. Forse può per quello che non se ne parla, cioè non si parla della complessità di un ecosistema, di un mare come cura Adriatico perché appunto per parlarne vorrebbe dire anche magari prendere coscienza di quello che è il mare, cioè non è soltanto un luogo dove andarsi a fare il bagno, a giocare con il frisbo e i racchettoni, ma il mare è un mondo abitato da altri animali e quindi bisogna rispettarlo non solo per noi ma soprattutto per chi è il protagonista di quel mare. E voi fate un lavoro che spiega anche questo dai più piccoli, dai bambini ai più grandi. Mi faccio qualche numero giusto per far capire proprio la consistenza del nostro lavoro. Da poco siamo arrivati alla seicentesima tartaruga rilasciata in mare da quando abbiamo iniziato la nostra attività e i recuperi in realtà sono aumentati tantissimo in questi ultimi appunto 13 anni in cui siamo diventati autonomi e abbiamo il nostro centro di recupero a Riccione. Parliamo di una sessantina, cinquantina di animali curati e rimessi in libertà ogni anno quindi un numero che in realtà nella conservazione, cioè non dimentichiamo che le tartarughe comunque sono animali ancora a rischio di estinzione, quindi diciamo che oscillano fra il rischio medio e il rischio alto, insomma sono animali che sono ancora in difficoltà quindi chiaramente rimetterne in mare 50-60 l'anno vuol dire fare una piccola differenza nella conservazione della specie. Ti racconto un po' quello che è successo insomma negli ultimi mesi. Come ti dicevo 13 anni fa c'è stato dato in gestione questo posto con un contratto di 4 anni quando siamo andati a chiedere il rinnovo del contratto in realtà ci fu detto che essendo lo stabile in cui noi eravamo appunto situati, un bene che il comune di Riccione stava mettendo in vendita diciamo che potevamo rimanere lì senza fare troppo rumore quanto volevamo ma nel momento in cui lo stabile sarebbe stato venduto ce ne saremmo dovuti andare. Nel frattempo sono passati parliamo di nove anni, sono cambiate tante amministrazioni a Riccione e i rapporti con l'ultima amministrazione sono diventati negli ultimi anni un po' difficili perché diciamo che è un'amministrazione che ha preso delle scelte molto discutibili sul piano ambientale noi ci siamo ritrovati diverse volte a metterci in contrapposizione insomma a esprimere il nostro scontento rispetto alle determinate sue scelte questa cosa sicuramente ha reso i rapporti difficili arriviamo all'estate scorsa che iniziamo a vedere un po' di vigili, un po' di tecnici del comune che si aggirano attorno alla nostra sede facendo delle foto e prendendo delle misure tutto questo però sempre comunque nel silenzio nel silenzio fino a quando a novembre noi ci accorgiamo che il riscaldamento non ci viene acceso noi abbiamo una parte con le vasche delle tartarughe che non è riscaldata in realtà le tartarughe sono le uniche in questo momento a non soffrire il freddo perché hanno i loro riscaldatori nelle vasche tutta la parte però degli uffici al piano superiore è stata lasciata al freddo abbiamo cercato di avere delle risposte che non abbiamo avuto le uniche risposte che abbiamo avuto le abbiamo avute tramite i giornali il comune ha rilasciato allora un comunicato stampa dicendo che la struttura era inagibile e che quindi le associazioni presenti all'interno che non eravamo solo noi ma gli altri presenti all'interno parliamo del coro della città di riccione dei sub cioè di altre associazioni che chiaramente hanno un trasloco molto più agevole del nostro cioè noi abbiamo vasche impianti per migliaia di metri cubi d'acca parliamo di veramente un trasloco che non si tratta di mettere quattro cose in tre scatoloni e quindi insomma hanno dichiarato l'inagibilità del poster inagibile tutto questo senza mostrare nessun documento ufficiale poi da allora fino adesso ancora silenzio fino a quando settimana scorsa prendiamo sempre dai giornali che la sindaca ha firmato l'ordine di sgombero dell'edificio per inagibilità il punto che in tutto questo non esistono perizie asseverate fatte a norma di legge che giustificano questa sua scelta cioè noi siamo sicuri che la scelta sia una scelta politica che probabilmente c'è un compratore che vuole che lo stabile venga sgomberato il prima possibile diciamo che però questa volontà abbastanza ferra dell'amministrazione di Riccione si va a scontrare con la realtà dei fatti cioè il fatto che noi non ce ne possiamo andare abbiamo al momento dieci tartarughe ricoverate tra l'altro quasi tutte di grossissime dimensioni cioè parliamo la più grossa è 80 cm per 60 kg tartarughe che hanno avuto interventi una ha avuto una rimozione di un amo due settimane fa quindi chiaramente in post operatorio anche in un momento insomma delicato tartarughe con ferite aperte insomma noi non possiamo andare via ma poi con loro non vi hanno avvertito cioè non c'è stato un contatto dell'amministrazione in questi mesi diceva vogliamo fare delle perizie probabilmente lo stabile non è a norma cioè è arrivata di botto come se c'è così è arrivata di botto è arrivata tramite mezzo stampa successivamente è arrivato il messo comunale tremolante che si vedeva poveretto che si vergognava a portarci il foglio ufficiale noi da allora ci siamo mossi per fortuna si è visto che la gente ci vuole bene perché in tanti si sono preoccupati in tanti hanno dimostrato il loro malcontento all'amministrazione tanto che nel giro di qualche giorno in realtà si è aperto un canale di comunicazione con loro che prima non c'era stato a posteriori si è aperto tutto ciò però non toglie il fatto che noi ci troviamo a gennaio con riscaldamento spento la struttura in teoria inagibile in cui adesso entriamo a nostro rischio pericolo quindi anche tutti i volontari che venivano aiutarci chiaramente tutto questo ci rende molto più difficile il nostro lavoro che già non è un lavoro comodo e così diventano delle controproposte cioè vi propongono un trasloco in luoghi possibili oppure il comune non si pone il problema dell'importanza del lavoro che avete fatto in tutti questi anni? quando sono usciti sul giornale dicendo appunto che lo stabile era inagibile e doveva mandarcene in realtà parlavano anche di una proposta alternativa una proposta alternativa che è lo IAL lo IAL è un istituto alberghiero di Riccione sito sempre in una colonia sulla spiaggia di proprietà però della regione il giorno dopo questa uscita sul giornale uscita a dichiarazione della preside dell'OIAL il titolo dell'articolo era ma quali tartarughe questa è una scuola quindi loro hanno proposto un'alternativa senza evidentemente parlarne con chi in questo momento è lì dentro tra l'altro proponendo un'alternativa che è uno stabile che non è loro ma è della regione cioè diciamo che praticamente la giunta o con la giunta insomma chi si sta occupando il sindaco o la sindaca di Riccione si occupa della politica della sua città esattamente come si fa politica ormai nel mainstream sul nazionale si vengono a sapere le cose dai giornali si vengono a sapere le cose dalle pagine facebook invece di relazionarsi e fare realmente quello che dovrebbe essere fare politica su un territorio e questo io lo trovo veramente allucinante cosa possiamo fare per aiutarvi? che tipo di pressioni possiamo fare? chiaramente io spero che questa nostra conversazione sia anche una possibilità di far parlare e di far conoscere questa problematica che io sono sicuro che si risolverà al meglio ma soprattutto per chi non vi conosceva il vostro importantissimo lavoro è importante fomentare sempre di più proprio le antropologie con i non umani Emanuele Fabiano e tanti altri antropologi anche in Italia si stanno occupando da anni di ragionare proprio su un'antropologia che non riguarda soltanto la specie degli animali umani e quindi anche pensare di fare dei lavori di ricerca indirizzare delle tesi su quello che è il mondo delle tartarughe in questo caso chiaramente il mondo degli animali è vastissimo cosa possiamo fare in questi giorni per fomentare questa possibilità di dialogo con la giunta Guarda, io appunto ti dicevo grazie a tutte le lettere di solidarietà che sono arrivate verso di noi in comune in questi giorni i messaggi sui social il vero e proprio mail bombing credo che abbia raggiunto i server del comune in questi giorni noi abbiamo visto un cambio di atteggiamento evidentemente si sono resi conto che abbiamo un valore abbiamo un valore anche proprio per la città ma in generale quindi io penso di continuare in questo senso li aiuti a essere un po' più lucidi rispetto al nostro destino quindi se chiunque volesse mandare una lettera o scrivere una mail lo scrivere un post sulla pagina del comune di Riccione insomma ci fa un favore sicuramente importante noi comunque terremo aggiornati tutti tramite i nostri canali social insomma su come si evolverà la situazione nelle prossime settimane e vorrei dire una cosa che spero che sarà il lieto fin allora partendo dal presupposto che l'umore è alto credo che si veda sappiamo che non abbiamo alternative quindi alla fine in qualche modo ne usciremo vincitori anche perché siamo sicuri di avere ragione noi in realtà qualche mese fa vista questa situazione insomma precaria a Riccione abbiamo partecipato a un bando per la gestione della struttura che era stata il vecchio delfinario di Rimini che è una struttura abbandonata già da diversi anni proprio sul porto di Rimini e ci siamo interessati molto a quella struttura anche per una sorta di rivalsa cioè da un luogo che era stato un luogo di sfruttamento di animali tra l'altro il delfinario di Rimini ha avuto anche un processo che si è concluso con una condanna per maltrattamenti quindi è un posto oggettivo dal mio punto di vista e credo che so anche dal tuo cioè qualsiasi posto che fa i soldi sulla pelle degli animali è un posto che andrebbe chiuso quello è stato chiuso perché è stato dimostrato insomma la sofferenza che ha causato agli animali che che dentro ci venivano sfruttati quindi l'idea di far diventare un centro di recupero invece cura e riabilitazione delle tartarogamerine un posto con un passato così brutto a noi ci piaceva molto quindi abbiamo partecipato a questo bando e abbiamo vinto il problema esatto questo non te l'avevo ancora detto abbiamo vinto chiaramente lì invece a differenza del nostro stabile attuale che non è inagibile quel posto invece ha bisogno di grosse grosse ristrutturazioni quindi insomma i prossimi mesi ci muoveremo però insomma parliamo di un trasloco che potrebbe avvenire fra un annetto non prima quindi insomma noi lavoriamo anche su quel versante speriamo di poter finire lì prima o poi bella notizia e diciamo il vostro sito come vi trovano sui social e magari come possono anche fare delle donazioni come possiamo allora il nostro sito è www.fondazionecetacea.org e dal sito ci sono diverse possibilità per fare delle donazioni di cui forse la più carina è l'adozione a distanza di una tartaruga marina sul sito al momento abbiamo solo Carolina però in realtà tutte le tartarughe che sono Carolina è la lungo de gente che purtroppo è cieca e quindi diciamo che ha ancora un percorso un po' lungo anche se anche su di lei speriamo di riuscire a costruire un percorso che porti alla libertà perché non pensiamo che comunque neanche la sua cecità sia una buona ragione per farle passare tutta la vita in una vasca però diciamo che cerchiamo di renderle le cose più facili possibili quindi sul sito c'è Carolina ma in realtà scrivendoci magari tramite social o anche una mail è possibile sapere quali sono le altre tartarughe ricoverate e decidere di adottarle è un'adozione simbolica, una tantum e volevo anche dire che facendoci un po' i complimenti che a differenza delle grandi associazioni che fanno le adozioni delle tartarughe marine adottando una delle nostre sia effettivamente un rapporto diretto con l'animale che si adotta perché è possibile contattarci per sapere come sta avere dei filmati avere delle foto essere aggiornati sul suo stato di salute insomma c'è veramente un animale dietro all'adozione che fai oltre il fatto che è anche poi se c'è la possibilità si può assistere anche al suo rilascio in mare che è sempre una cosa molto bella sarebbe stato bello poter dire anche che vi si poteva venire a trovare e conoscere le tartarughe credo che a parte questa problematica sull'inagibilità e in più il problema che stiamo vivendo che è quello della pandemia e delle restrizioni degli spostamenti quindi non lo possiamo dire ma visto che ci auguriamo che tutto vada per il meglio da tutti i punti di vista sicuramente si potrà tornare a visitarvi a conoscere meglio appunto il mondo marino prima di salutarci secondo me è importante se tu ne hai voglia dire chi c'è nel team della vostra fondazione perché tu ti occupi sia di comunicazione che di tantissime cose ovviamente però poi immagino che ci siano anche degli esperti di questi animali marini Sì, allora nel nostro tra l'altro noi negli ultimi anni siamo anche riusciti a allargare molto il team ti dico soltanto che nell'ultimo anno sono entrate tre biologhe marine a collaborare con noi che erano state già nostre volontarie e socie da tanti anni e già c'era una biologa residente che collabora è interna da tanti tanti anni anche lei c'è una segretaria che però si occupa anche di fisioterapia alle tartarughe insomma diciamo che ciascuno di noi in realtà poi ha delle funzioni molto versatili e poi abbiamo un bellissimo gruppo di volontari senza cui non riusciremo probabilmente a sostenere le cure di tutti gli animali perché soprattutto ed estate in realtà con l'apertura al pubblico abbiamo tantissimo lavoro quindi ci sono parecchie persone che ci dedicano il loro tempo sia persone sia ragazzi che studiano magari veterinaria o biologia ma anche semplicemente appassionati che vogliono venire a dare una mano quindi siamo siamo un bel team oltre al fatto che abbiamo anche dei soci molto presenti nel senso che non siamo un'associazione in cui il socio fa una tessera e poi non lo vedi più diciamo tutti i nostri soci partecipano all'assemblee hanno un ruolo anche attivo nella vita associativa siamo siamo un po' siamo tanti e siamo affiatati bene lunga vita alla fondazione lunga vita soprattutto alle nostre amiche tartarughe grazie Alice grazie per averci anche donato queste immagini bellissime che abbiamo visto mentre parlavamo delle vostre attività delle tartarughe e di tutto quello appunto che è un pochino il vostro il vostro lavoro la vostra passione grazie a te anche di aver accolto subito il vostro appello buona buona serata